il film network quinto potere aiuterebbe a sviluppare la spiritualità contro la schiavitù materialistica dei potenti e invece no infatti il film network quinto potere propone una spiritualità che sottomette al materialismo dei potenti ricontraddizione ehi scopriamone alcune i simboli della religione della schiavitù nel film network quinto potere vediamo sette riferimenti della gnostic religion nel film cinque altri simboli gnostici sono gli eventi accessori al fulmine come il tuono è il tuono che però è un effetto del fulmine che fa alzare e lo fa muovere all'azione dunque si muove all'azione per un effetto del fulmine il fulmine è dunque una manifestazione dell'entità trascendente che prima lo avrebbe illuminato quando era a letto e gli avrebbe parlato e che ora lo spronerebbe all'azione senza il fulmine Howard in tv si sarebbe semplicemente suicidato perché agli gnostici piace il fulmine perché una volta eraclito ha scritto nel frammento numero 64 il fulmine governa ogni cosa poi dopo nei secoli successivi ci hanno lambiccato sopra e hanno ricavato che il fulmine unisce il cielo e la terra ossia unisce spirito e materia ma poiché visivamente sembra provenire dal cielo allora sarebbe la discesa dello spirito sulla terra inoltre il fulmine è luminoso dunque può illuminare gli uomini ma poiché dura un istante illumina solo chi cerca di vederlo chi è alla ricerca della sua luce perché il fulmine non è come il sole che si impone a tutti gli uomini in modo costante un personaggio famoso collegato al fulmine è harry potter fulmine sulla fronte quando era piccolo fulmine sulla fronte quando è diventato più grande fulmine sulla prima lettera del cognome dunque ad indicare proprio l'entità gnostica come genitrice dello spirito di harry sesto gnostic symbol del film altro evento accessorio al fulmine è la pioggia da cui il simbolo dell'uomo della pioggia il rain man secondo la gnostic religion tutto comincia col fulmine a cui seguono il tuono e poi la pioggia dunque anche la pioggia è un'altra conseguenza della manifestazione del fulmine entità trascendente pertanto camminare sotto la pioggia significherebbe camminare dentro una conseguenza dell'entità e bagnarsi della pioggia significherebbe accettare l'entità gnostic su di sé quanto meno la sua volontà tutto questo significa diventare un rain man ossia un discepolo dell'entità gnostic pro elite nel caso del film network significa più esattamente diventare un profeta dell'entità gnostic come visto prima quando howard raccontava il suo dialogo spirituale alla tv per la miseria non ti chiedo di attraversare la nazione con il saio e le ceneri a predicare l'apocalisse che è un'altra citazione della bibbia del libro del profeta jonah ora con la scena della pioggia sappiamo che invece gli chiedeva di attraversare la nazione sotto la pioggia infatti se il dio biblico fa attraversare la nazione con il saio e le ceneri ossia all'asciutto invece l'entità gnostic fa camminare all'opposto del dio biblico ossia sotto la pioggia tra l'altro per evidenziare questa simbologia il film mostra una scena in cui contrappone howard con altre due persone che gli passano a fianco queste persone hanno l'ombrello sono vestite di nero da capo a piedi chissà forse simboleggiano i preti e rabbini della religione biblica e soprattutto corrono mentre hoard cammina quindi qua abbiamo la scena di hoard che cammina in questa direzione e questa persona che sta correndo nell'altra direzione ossia queste due persone con l'ombrello si riparono dalla pioggia e la fuggono e tra l'altro vanno in entrambe le direzioni rispetto a quella di hoard vediamo la seconda persona questa la seconda persona con l'ombrello che corre ora si trova a questa altezza prova avanza e la persona lo raggiungerà e lo supererà perché sta correndo mentre hoard si limita a camminare ossia il senso di questa scena del film è che la presunta differenza e superiorità della dignità di alcune persone rispetto alle altre non starebbe nella direzione che si prende ma nell'accettare su di sé o nel rifiutare la pioggia per cui si può anche andare nella stessa direzione di hoard e superarlo ma se si fugge dalla pioggia non si sarebbe come lui non si sarebbe al livello della sua dignità se poi si preferisce il sole non ci sarebbe proprio speranza il simbolo del Rain Man si trova in tanti altri film si può ricordare V for Vendetta e voi direte V io V dove l'eroina Evely che è sinonimo di Eva Evely piccola Eva Evelina dopo aver superato una prova psicologica che sarebbe un percorso di risveglio dell'iniziato per diventare uno spirituale consapevole Evely esce sul balcone anche lì di notte anche lì sotto la pioggia e dice la frase rivelativa del doppio giochismo di Hollywood Dio è nella pioggia in inglese dice proprio God is in the rain God is in the rain e poi si mette a piangere perché ha capito tutto della vita e perché ringrazia l'entità infatti sullo sfondo oplà il fulmine ossia l'entità gli risponde e la illumina Tuttavia questa storia della pioggia del Rain Man è una cosa molto vecchia a Hollywood era presente anche nel film Cantando sotto la pioggia del 1952 I'm singing in the rain Sto cantando sotto la pioggia E uno dovrebbe meravigliarsi Come? Canti sotto la pioggia? Just singing in the rain Proprio cantando sotto la pioggia Quindi non si riferisce proprio alla pioggia pioggia alla pioggia materiale What a glorious feeling! Che sentimento glorioso Che sensazione gloriosa Gloria Il termine è gloria e fa riferimento alla gloria di Dio alla gloria divina Ecco perché sta cantando cioè è felice And I'm happy again E sono di nuovo felice Pioggia Gloria Felicità Ecco perché sta cantando Non si sta lamentando sta cantando Infatti la canzoncina è allegra I'm singing in the rain Yeah I'm laughing at clouds Sto ridendo alle nuvole Sto ridendo in che senso? Le sta prendendo in giro? No Sta ridendo nel senso che sta ringraziando le nuvole che gli portano quella pioggia spirituale Sta ringraziando le nuvole So dark up above Perché È così scuro Qua sopra Qua sopra dove? Sopra la terra Ed è interessante che l'oscurità sia sopra la terra non perché si sta riferendo all'oscurità delle nuvole Perché una scena famosa di questo film è quando Gene Kelly balla sotto la pioggia di notte Quindi quando sta riferendo all'oscurità sopra la terra si sta riferendo ad una oscurità spirituale Il sole Il sole è nel mio cuore Il sole L'energia è dentro perché la pioggia evidentemente ha risvegliato quell'energia del cuore Ha risvegliato lo spirito And I'm ready for love E Sono pronto ad amare Ringrazia le nuvole Perché sopra la terra c'è l'oscurità Ma grazie alla pioggia Il sole è nel mio cuore Lo ha risvegliato Ha riacceso il sole La pioggia Riaccende il sole Quindi Una cosa spirituale Riaccende un'altra cosa spirituale dentro di te E con quella Sei pronto ad amare Mentre prima Evidentemente No Che bella la pioggia Quindi prosegue Nella quinta parte Ancora Sul sesto simbolo Della religione Della schiavitù Del popolo Nel film Cantando sotto la pioggia E indagatore Qua C'è il prossimo video C'è il prossimo video